Cari amici di Whispers of Wisdom, sono felice di darvi il benvenuto a questo straordinario viaggio di crescita personale e consapevolezza spirituale. Prima di immergerci in questo video ricco di ispirazione, vorrei chiedervi un piccolo favore. Vi pregherei gentilmente di iscrivervi al nostro canale, attivare la campanellina delle notifiche e lasciare un like per sostenere il nostro lavoro. Con il vostro supporto, possiamo continuare a condividere saggezza, motivazione e positività con sempre più persone. Grazie di cuore per il vostro sostegno e ora, senza ulteriori indugi, lasciatevi trasportare dalle parole che seguono. In un mondo frenetico e caotico, spesso ci sentiamo persi e soli, come naufraghi sul mare in tempesta. Ma in mezzo alle onde agitate, l'universo, come un faro silenzioso, ci invia segnali segreti per guidarci verso la riva della realizzazione e della felicità. Guarda oltre le apparenze, oltre il frastuono della vita quotidiana. L'universo parla con un linguaggio sottile, fatto di sincronicità, intuizioni e coincidenze. È come se ci fosse una danza cosmica invisibile, una coreografia di eventi che si svolge intorno a noi, pronta a rivelare i suoi segreti a coloro che sono disposti ad ascoltare. Ma ascoltare richiede più che semplicemente usare le orecchie. Richiede uno sguardo interiore, un'apertura della mente e del cuore. È un atto di fiducia nel potere dell'universo, una fede che ci guida attraverso le tenebre della nostra incertezza. La chiave per decifrare questi sussurri cosmici risiede nella consapevolezza. La consapevolezza di sé, della propria connessione con l'universo e con gli altri esseri viventi. Quando ci immergiamo in questo flusso di consapevolezza, ci rendiamo conto che siamo parte di un tutto più grande, parte di un disegno divino che si svela lentamente davanti ai nostri occhi. E in questo disegno, ogni individuo ha un ruolo da svolgere, un contributo unico da offrire al mondo. È come se fossimo ciascuno un tassello di un puzzle cosmico, e solo quando ci mettiamo al nostro posto possiamo vedere l'immagine completa che emerge dalla nostra cooperazione. Ma trovare il nostro posto non è sempre facile. Spesso siamo distratti dalle illusioni del mondo materiale, dalle superficialità e dalle ambizioni effimere. Tuttavia, è quando ci distacchiamo da queste illusioni che possiamo veramente vedere chi siamo e qual è il nostro scopo. E quando troviamo il nostro scopo, quando sentiamo il richiamo profondo della nostra anima, allora possiamo sentire la fiamma della motivazione bruciare dentro di noi. È una fiamma che non può essere spenta dagli ostacoli sulla nostra strada, ma che invece li trasforma in pietre miliari sulla strada verso il nostro destino. È in questi momenti di sfida che possiamo davvero dimostrare la nostra forza interiore. È come se ogni ostacolo fosse un'opportunità per crescere, per superare i nostri limiti e per emergere più forti di prima. È qui che possiamo abbracciare il potere dell'universo che scorre attraverso di noi, alimentando la nostra determinazione e la nostra resilienza. Quindi, caro amico, quando ti senti perso e solo in mezzo alla tempesta della vita, ricorda che sei parte di un'interconnessione cosmica più grande. Ascolta i sussurri dell'universo che ti guidano, abbraccia la tua consapevolezza e trova il tuo posto nel grande disegno della vita. E quando trovi il tuo scopo, lascia che la fiamma della motivazione bruci dentro di te, spingendoti sempre avanti verso la tua realizzazione e felicità. 5 segnali segreti con cui l'universo ti aiuta. 1. Sincronicità, l'allineamento magico. Hai mai avuto la sensazione che il destino stesse intervenendo nella tua vita? Un incontro casuale che si rivela un'opportunità preziosa, una canzone che risuona perfettamente con le tue emozioni, un libro che sembra scritto apposta per te. Questi sono i fili invisibili della sincronicità, un segno che l'universo sta allineando i tuoi passi verso il tuo scopo più alto. Quando ci imbattiamo in queste coincidenze significative, non dovremmo scartarle come semplici incidenti o coincidenze casuali. Al contrario, dovremmo considerarle come messaggi dall'universo, come segnali che ci incoraggiano a prestare attenzione e ad essere consapevoli delle opportunità che si presentano lungo il nostro cammino. La sincronicità è come un gioco di simboli, un linguaggio segreto dell'universo che comunica con noi attraverso eventi esterni che riflettono i nostri pensieri, le nostre emozioni e le nostre intenzioni più profonde. È come se ci fosse una danza invisibile tra la nostra mente e l'energia cosmica, una danza che si manifesta nel mondo esterno sotto forma di coincidenze e connessioni apparentemente casuali. Quando impariamo a riconoscere e interpretare queste sincronicità, diventiamo partecipi attivi nella co-creazione della nostra realtà. Non si tratta solo di essere nel posto giusto al momento giusto, ma di essere in sintonia con l'energia dell'universo e di permettere a questa energia di fluire attraverso di noi, guidandoci verso il nostro destino più elevato. Quindi, la prossima volta che ti trovi di fronte a una coincidenza significativa, non ignorarla o scartarla come una semplice casualità. Fermati un attimo, rifletti su ciò che potrebbe significare per te e segui il flusso della sincronicità. Potresti essere sorpreso da dove ti porterà e da quali opportunità si apriranno di fronte a te. 2. Sogni, messaggi dal subconscio. Mentre dormiamo, la nostra mente razionale si rilassa e il subconscio emerge, rivelandoci attraverso i sogni messaggi preziosi e intuizioni profonde. I sogni sono come finestre aperte sulle profondità della nostra psiche, dove le barriere tra conscio e inconscio si dissolvono, permettendoci di accedere a verità nascoste e a saggezza interiore. Prendi l'abitudine di annotare i tuoi sogni, prestando attenzione alle immagini, alle emozioni e ai simboli che vi compaiono. Anche i particolari apparentemente insignificanti possono rivelare significati profondi se scrutati attentamente. Ogni sogno è un pezzo del puzzle della nostra vita, una rappresentazione simbolica dei nostri desideri, paure, speranze e aspettative. Spesso, questi sogni contengono soluzioni a problemi che ti tormentano o indicazioni su nuove opportunità che ti attendono. È come se il tuo subconscio stesse lavorando silenziosamente dietro le quinte, cercando di comunicare con te attraverso il linguaggio dei sogni. È importante, quindi, essere receptivi e aperti a queste comunicazioni, perché possono fornirci preziose chiavi per risolvere le sfide della vita e per realizzare i nostri desideri più profondi. I sogni sono anche una fonte di ispirazione e creatività. Molte idee rivoluzionarie sono nate da sogni, da visioni notturne che hanno illuminato la mente di inventori, artisti e visionari. Quando ci immergiamo nel mondo dei sogni, entriamo in contatto con il nostro lato più intuitivo e creativo, aprendo la porta a nuove possibilità e prospettive che potremmo non aver considerato prima. Quindi, la prossima volta che ti svegli da un sogno vivido o strano, non ignorarlo o dimenticarlo. Prendi un momento per riflettere su di esso, annotandone i particolari e cercando di interpretarne il significato. Potresti essere sorpreso da quanto possa essere rivelatore e illuminante il messaggio nascosto nei tuoi sogni. 3. Intuizione, la voce interiore. Oltre ai sogni, l'universo ci parla anche attraverso l'intuizione, quella voce silenziosa che sussurra dentro di noi. È come un faro interiore che illumina il cammino della nostra esistenza, guidandoci verso le scelte e le direzioni che sono più in armonia con il nostro vero sé. Impara a distinguere l'intuizione dai semplici pensieri razionali. Mentre i pensieri razionali sono il prodotto della nostra mente logica e analitica, l'intuizione è qualcosa di più profondo, più istintivo. È immediata, spontanea e spesso accompagnata da una sensazione di giustezza, anche se non sempre può essere spiegata razionalmente. Quando impariamo ad ascoltare la nostra intuizione, entriamo in contatto con una saggezza più grande di noi stessi, una saggezza che risiede nell'essenza stessa dell'universo. È come se fossimo collegati a una rete invisibile di conoscenza, una rete che ci fornisce informazioni e orientamenti preziosi sulla nostra strada. Ma ascoltare l'intuizione richiede fiducia e coraggio. Spesso, possiamo trovarci di fronte a decisioni difficili, dove la logica e il ragionamento sembrano indicare lezione, ma la nostra intuizione ci suggerisce qualcosa di diverso. In quei momenti, è importante avere il coraggio di seguire la voce interiore, anche se può sembrare controintuitivo o irrazionale. Perché l'intuizione è come una bussola interna che ci orienta verso la nostra verità più autentica. È come se l'universo stesse parlando direttamente con noi, offrendoci consigli preziosi e indicazioni sulla strada da percorrere. E quando seguiamo la guida della nostra intuizione, scopriamo spesso che porta a risultati sorprendenti e gratificanti, che ci portano più vicino alla realizzazione dei nostri sogni e al raggiungimento del nostro pieno potenziale. Quindi, la prossima volta che senti quel sussurro tranquillo della tua intuizione, non ignorarlo o sopprimerlo. Ascoltalo con attenzione, fidati della sua saggezza e lascia che ti guidi verso le scelte più giuste per la tua vita. Potresti essere sorpreso da quanto sia potente e trasformativa la voce interiore quando gli concedi il giusto ascolto. 4. Segni inaspettati, messaggi celesti. L'universo può utilizzare qualsiasi cosa per comunicarci, anche una piuma che cade dal cielo, una farfalla che si posa sulla tua spalla o una frase che cogli per caso in una conversazione. Questi sono i segni inaspettati che ci circondano ogni giorno, messaggi celesti che ci invitano a prestare attenzione e ad essere consapevoli delle coincidenze che accadono intorno a noi. Spesso, tendiamo a ignorare o sottovalutare questi segni, attribuendoli al caso o alla casualità. Tuttavia, se impariamo ad essere più attenti e aperti, possiamo scoprire che dietro questi eventi apparentemente insignificanti si nasconde un significato più profondo, una connessione con l'energia universale che ci circonda. Presta attenzione a questi segni inaspettati, perché potrebbero essere messaggi celesti che ti incoraggiano a proseguire sulla tua strada o a cambiare direzione. È come se l'universo stesse cercando di comunicare con noi attraverso il linguaggio del simbolismo, usando le circostanze esterne per richiamare la nostra attenzione e guidarci verso il nostro destino. Quando ci troviamo di fronte a un segno inaspettato, è importante essere receptivi e aperti alla sua interpretazione. Chiedi qual è il messaggio dietro questo evento? Cosa mi sta cercando di dire l'universo? Anche se la risposta potrebbe non essere immediatamente chiara, è importante rimanere aperti e lasciare che il significato si sveli gradualmente nel tempo. Ogni segno inaspettato è un dono dall'universo, un'opportunità per crescere, imparare e evolvere spiritualmente. Non ignorare mai questi segnali, perché potrebbero essere la chiave per aprire porte verso nuove esperienze, opportunità e scoperte sulla tua strada verso la realizzazione e la felicità. Quindi, la prossima volta che incontri un segno inaspettato, fermati un attimo, respira profondamente e chiedi quale potrebbe essere il suo significato per te. Potresti essere sorpreso da quanto possa essere profondo e trasformativo il messaggio nascosto dietro questi segni celesti. 5. Sfide e ostacoli, opportunità per crescere. Non temere le sfide e gli ostacoli che incontri sul tuo cammino. Sovente, sono proprio queste difficoltà a far emergere la tua forza interiore e la tua resilienza. Affronta con coraggio e determinazione, perché ti aiuteranno a crescere e a diventare la versione migliore di te stesso. Le sfide sono come maestri travestiti da ostacoli, che ci insegnano le lezioni più preziose della vita. Quando ci troviamo di fronte a una sfida, non dovremmo scoraggiarci o arrenderci, ma dovremmo invece vedere l'opportunità di crescita e di trasformazione che si cela dietro di essa. Affrontare le sfide richiede coraggio e determinazione, ma anche fiducia nel nostro potenziale e nella nostra capacità di superare gli ostacoli. È come se ogni sfida fosse un test della nostra forza interiore, un'opportunità per dimostrare a noi stessi di cosa siamo veramente capaci. Ma affrontare le sfide non significa affrontarle da soli. È importante avere il supporto e l'incoraggiamento degli altri, sia amici, familiari o mentori, che possono aiutarci a superare le difficoltà e ad affrontare i momenti difficili con coraggio e resilienza. Quando superiamo una sfida, non solo diventiamo più forti e più resilienti, ma anche più consapevoli di noi stessi e delle nostre capacità. Scopriamo una nuova fiducia in noi stessi e nella nostra capacità di affrontare qualsiasi ostacolo possa attraversare il nostro cammino. Quindi, la prossima volta che ti trovi di fronte a una sfida, non temerla o evitarla. Accoglila come un'opportunità per crescere e per diventare la migliore versione di te stesso. Affrontala con coraggio, determinazione e fiducia, e scoprirai che anche le sfide più difficili possono essere superate con grazia e forza interiore. Non sei solo in questo viaggio. L'universo è con te, pronto ad aiutarti a realizzare il tuo pieno potenziale. Apri il tuo cuore ai suoi segnali segreti, segui la tua intuizione e affronta le sfide con coraggio. In questo modo, scoprirai la forza interiore che ti permette di superare ogni ostacolo e di vivere una vita straordinaria. L'universo non ti dà ciò che vuoi, ti dà ciò di cui hai bisogno per creare ciò che vuoi. Frase di Eckhart Tolle In questo straordinario viaggio chiamato vita, è importante ricordare che non siamo soli. L'universo, con la sua vastità e la sua saggezza infinita, è sempre con noi, guidandoci e sostenendoci lungo il cammino. Apri il tuo cuore e la tua mente ai segnali segreti dell'universo. Questi segnali possono manifestarsi in modi diversi, attraverso le sincronicità, i sogni, l'intuizione e i segni inaspettati che ci circondano ogni giorno. È importante essere attenti e aperti a queste comunicazioni, perché spesso contengono preziose indicazioni sul nostro percorso e sulla nostra missione nella vita. Segui la tua intuizione, quella voce silenziosa dentro di te che ti guida verso le scelte più giuste per te. Impara a distinguere la tua voce interiore dalle influenze esterne e dagli schemi di pensiero limitanti. Quando segui la tua intuizione, sei sulla strada per realizzare il tuo pieno potenziale e per raggiungere la felicità autentica. Affronta le sfide con coraggio e determinazione, sapendo che ogni ostacolo è un'opportunità per crescere e per diventare più forte. Non temere le difficoltà, ma abbraccia come parte del tuo viaggio di crescita personale. Con ogni sfida superata, scoprirai una nuova dimensione della tua forza interiore e della tua resilienza. Ricorda sempre che sei parte di qualcosa di più grande di te stesso, parte di un universo in continua evoluzione e trasformazione. Sii grato per ogni esperienza, per ogni lezione appresa e per ogni successo ottenuto lungo il tuo cammino. Con fiducia nel tuo cuore e con la guida dell'universo, nulla può fermarti. Vivi ogni giorno con gratitudine, consapevolezza e determinazione, e realizzerai il tuo destino più elevato, creando una vita straordinaria e significativa per te stesso e per gli altri. Grazie di aver condiviso questo prezioso momento con noi su Whispers of Wisdom. Se ti è piaciuto il video e desideri continuare a ricevere ispirazione e saggezza, ti invitiamo cordialmente a iscriverti al nostro canale e ad attivare la campanellina delle notifiche per non perdere nessun nuovo contenuto. Lascia anche un like, condividi il video con chi pensi possa trarne beneficio e lascia un commento con le tue riflessioni e le tue esperienze. Con il tuo supporto, possiamo continuare a diffondere luce e positività nel mondo. Grazie ancora per essere parte della nostra comunità di crescita e consapevolezza. A presto su Whispers of Wisdom.